A livello di Bari È una struttura che agisce a 360 gradi dalle più semplici necessità che potrebbe anche essere quella di dire mio padre, mia madre hanno fatto questo, cosa posso fare? Quindi alla domanda comune fino alle necessità più importanti che le istituzioni sono discretamente latenti. Quindi abbiamo necessità di far fronte a quelle che sono le nostre esigenze con il volontariato. Si rendono conto che non c'è quasi nulla attorno e allora cercano attraverso il nostro centro e la nostra assistenza una risposta che non sempre loro viene data. A condurre la serata Michela Calcagno, Mauro Pulpito e Michele Salomone insieme per accogliere fondi per quella che è diventata una missione, dare dignità ad una malattia che ti toglie tutto. Sergio Rubini si è offerto gratuitamente ad essere il nostro testimone.